Ciao a tutti, siamo giunti alla terza giornata di questo incontro, la canalizzazione vibrazionale angelica. Sono un po' in ritardo perché ho finora ricevuto messaggi in merito a come dovrà andare questa giornata e c'è stato un cambiamento totale di programma. Sarà veramente una bella sorpresa per tutte loro che tra l'altro ieri hanno veramente ricevuto dei messaggi importanti e hanno ricevuto un messaggio che io stesso avevo già ricevuto, che questo progetto sarà un progetto di portata mondiale e loro sono le prime. Ciao a tutti, a presto!